Vorrei difendere i cittadini onesti di questo Paese, i cittadini ricchi, i cittadini poveri, i cittadini per bene che pagano le tasse e che non meritano di essere mandati all'inferno dall'onorevole Vendola che recupera un frasario, una terminologia marxista-leninista di 70 anni fa. Il problema non è distinguere tra ricchi e poveri e fare la caccia al ricco, il problema è pretendere che tutti i cittadini paghino le tasse e oggi il risultato della difesa non tanto occulta degli evasori fiscali la ritroviamo in chi dice i ricchi all'inferno. No, gli italiani non si devono distinguere tra ricchi e poveri e noi non vogliamo più poveri, anzi semmai vorremmo più ricchi, ma gli italiani si debbono dividere tra persone per bene che creano ricchezza, che creano lavoro, che creano industrie, che creano posti di lavoro e gli italiani per male. Sul tema dell'accordo PDL-Lega hanno fatto un'operazione così chiara che da stasera abbiamo Bersani candidato, Monti candidato e abbiamo tre candidati del PDL della Lega, non si capisce chi. Dobbiamo fare una specie di caccia al tesoro per capire tra Berlusconi, Tremonti e Alfano chi è il candidato vero. Non è serio fare un accordo di questo tipo, è chiaro che questo è l'accordo della disperazione, tutto il resto è un déjà vu anche abbastanza triste perché non sono nemmeno in grado di scegliere un candidato e probabilmente si vergognano di Berlusconi per cui devono affiancarlo con altri nomi di comodo. Francamente devo dire una dimostrazione di pessima politica, tutti i senatori saranno indicati dal Presidente del Consiglio, il mio partito ha zero senatori e faremo il gruppo parlamentare unico. Mi dispiace anche che non si candidi Montezemolo, ma rispetto alla sua scelta di non candidarsi, mi dispiace che non si candidi Riccardi, ma rispetto alla sua scelta di non candidarsi. Cesa, lo candidate oppure no? Non è un problema all'ordine del giorno, sarà candidato come è sempre stato in questi ultimi 15 anni senza che nessuno abbia mai sottavato nessun problema. Grazie.